Un cordiale saluto ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con Il Fatto. Torniamo a parlare di politica in questi spazi che approfondiscono il dibattito ormai in vista delle prossime elezioni regionali. In vista delle regionali ci sarà un evento il prossimo venerdì nel pomeriggio a Pescara, alla Palabecci, promosso dal gruppo consigliare di Forza Italia che farà innanzitutto il punto sulla consigliatura che si sta per concludere a Palazzo dell'Emiciclo. Noi abbiamo in studio il capogruppo Mauro Febbo che salutiamo e ringraziamo. Buonasera Febbo. Buonasera. Allora, diciamo che questo evento apre di fatto la campagna elettorale per le prossime regionali, alla quale Forza Italia, ne abbiamo già parlato proprio in questi studi, è già pronta da tempo, con un sostegno convinto e ribadito al Presidente Marsiglio, al suo progetto politico, alla sua coalizione. Ma è anche questo un punto di arrivo di un percorso consigliare che vi ha visto all'inizio avere dei numeri molto diversi da quelli con i quali lasciate l'Assemblea e chiedete nuovamente fiducia agli elettori. Cosa hanno rappresentato questi cinque anni per Forza Italia, per il suo gruppo regionale, appunto, in questa consigliatura? Ma intanto qualcosa lei già lo ha anticipato. Noi nel 2019 siamo entrati in tre, siamo rimasti poi in due, insomma c'erano difficoltà oggettive nei confronti di Forza Italia. Nel tempo, e credo che grazie proprio a questa attività amministrativa, attività politica, attività consigliare che abbiamo fatto, il gruppo si è ulteriormente allargato, fino a che oggi siamo il primo gruppo con otto consiglieri. Noi portiamo tanti risultati, peraltro lo diciamo con orgoglio e soprattutto lo diciamo in un momento che, insomma, almeno per 30 mesi, per due anni e mezzo, con la pandemia le attività in generale sono rallentate. Ci sono stati degli eslittamenti, peraltro importanti, penso a tutta la programmazione europea, 21-27, che è diventata 23-27, alla programmazione dei fondi, quelli che una volta si chiamava il master, cioè i fondi sviluppo e coesione, che è la stessa cosa, 21-27 sono diventati 23-27 e così via. Però noi abbiamo avuto piccoli e grandi risultati. Credo che fino a qualche tempo fa erano inaspettati, piccoli, anche se non sono piccoli, però insomma io qualcuno lo vorrei ricordare, abbiamo raggiunto tappe che prima nessuno ci era riuscito. Penso all'allungamento della pista dell'aeroporto d'Abruzzo, era una cosa che sono 30 anni che la chiediamo, non riusciamo a fare i voli intercontinentali, ci si è riusciti, è peraltro accompagnato con un aumento dei passeggeri da 500 mila passeggeri a 850 mila. Penso allo sblocco della vertenza tutta della nostra area metropolitana, quella degli espropri dell'asse attrezzato. Sono lì cause che durano da 42 anni, peraltro cause che hanno portato allo svuotamento del consorzio della Val Pescara, che prima era considerato il centro, il cuore dell'economia imprenditoriale abruzzese, che poi si è spostato in Val di Sangro e nel Vastese, e ha portato alla liquidazione di quell'ente che addirittura non è entrata a far parte dell'Arap, che è l'organo di indirizzo dello sviluppo industriale ed economico dell'Abruzzo. Finalmente stiamo addirittura liquidando gli espropriati, un'operazione di 14 milioni di euro che si è avuto grazie a questa forte sinergia tra Regione Abruzzo e Governo nazionale. E poi penso ad altri risultati che sono anch'essi importanti. Il mondo imprenditoriale, piccolo, grande e medio, ci chiedeva di avere finalmente un istituto di credito. Avevamo due società in house, Abruzzo Sviluppo e Fira, più o meno tutte e due facevano la stessa cosa, la stessa Corte dei Conti erano almeno dieci anni che segnalava questa anomalia per la Regione Abruzzo, le abbiamo fuse e adesso le stiamo affidando per dargli quella forza che ci serve per farlo diventare, per fargli avere finalmente la qualifica che deve avere tutta la gestione di quelli che sono i fondi europei e nazionali e quelli straordinari. Quindi altro risultato importante. Poi siamo per approvare anche qui cose particolarmente importanti. Martedì prossimo, il 21, abbiamo concesso un'altra settimana su richiesta di due partiti importanti che fanno parte del Consiglio regionale. un'altra settimana di possibilità di verificare se ci sono discordanze, problematiche sulla legge urbanistica. Sono 40 anni che c'è una legge urbanistica, anzi per la presione 41, se vogliamo essere precisi, perché è dell'82. Tutti ci hanno provato, io che sono considerato il nonno o il veterano del Consiglio regionale, ne ho visti passare i progetti, tutti naufragati. Noi lunedì, martedì 21 lo porteremo in combimento. Poi c'è la rete ospedaliera. Poi c'è quella grossa rete ospedaliera che gli abruzzesi aspettano da tanti anni, nessuno mai ha avuto il coraggio di portarla, chi ci ha preceduto ci ha provato, ma è riuscito solo a fare un decreto commissariale, poi a tramutarlo il rete ospedaliera non c'è uscita, facendo tagli pesanti. Noi abbiamo risposto a quelle che sono le esigenze del DM 70, ma comunque il famoso decreto Lorenzin, che oramai gli abruzzesi conoscono, i nostri concittadini conoscono, però abbiamo anche lì dato un'impronta molto territoriale, abbiamo evitato molte brutture che c'erano. Poi è chiaro che c'è ancora qualche maressere sui territori, che è normale che ci sia perché non si può accontentare tutti, però voglio dire rispetto a quelle che erano le chiusure, la macelleria sociale e sanitaria che era stata programmata con il decreto commissariale 79, credo che abbiamo dato risposte importanti a tutti i territori. Io dico che poi, peraltro, di questa rete sanitaria, la novità è questa, è che la rete sanitaria è l'atto programmatorio, poi l'atto di gestione sarà fatto con gli atti aziendali, quindi la politica finalmente fa un passo indietro, cioè la politica ti dà gli indirizzi, dà la programmazione, adesso saranno i direttori, i capi di partimento a dover portare i risultati, a dover sviluppare quegli atti e quindi dare quelle risposte magari a quei territori che leggendo così molto asetticamente la rete si sente penalizzate. Parlo per esempio, peraltro, di quella che è la polemica a Chiedi, a Pescara, nelle grandi città si sente maggiormente che è quella del famoso DEA di secondo livello. Noi abbiamo individuato il DEA di secondo livello funzionali nei quattro ospedali principali delle città capologo, Chiedi, Pescara, Teramo e L'Aquila. Qualcuno ritiene impropriamente, e lo abbiamo dimostrato in Commissione, lo abbiamo spiegato io, lo ha spiegato il dottor Cosenza, il direttore dell'Agenzia Sanitaria, lo ha spiegato bene il direttore generale Damario, lo hanno spiegato anche alcuni direttori generali che hanno partecipato ai confronti, che non è vero che Chiedi e Teramo partono penalizzate perché nei famosi 36 mesi gli obiettivi da raggiungere sono già parzialmente raggiunti da Pescara e da L'Aquila. Non è così perché non hanno studiato, non leggono le carte, non sanno che lì ci sono 10 sotto obiettivi che devono essere raggiunti, di cui per esempio Chiedi su 5 è in vantaggio rispetto a Pescara. D'altronde se a Chiedi esiste un comitato per il dia di secondo livello che lo reclama, esiste anche a Pescara, quindi significa che non è come si dice. Che i giochi sono tutti aperti. Addirittura Teramo è molto più avvantaggiato rispetto all'Aquila, perché Teramo a differenza degli altri tre capologhi è l'unico, non so come, che ha tutte le specializzazioni, ce ne ha tutte. Quindi voglio dire, è pretestuoso. Quando si dice, sì ma voi nelle zone interne state chiudendo alcuni, non lo stiamo chiudendo niente, c'è una trasformazione giuridica, non si chiamano più punti di primo intervento PP, ma si chiamano ospedali di comunità, che sono H24, a cui noi abbiamo accompagnato le ambulanze medicali, cioè con il medico, quindi stiamo fornendo un servizio in più rispetto a quello che c'era prima. Non solo, adesso nel giro di pochi mesi, perché bisogna fare l'addestramento, bisogna fare alcuni passaggi, partirà anche l'erisoccorso notturno, un'altra cosa che sono anni di cui si parla e nessuno ha fatto. Quindi voglio dire, sono medaglie importanti che ci appiccichiamo, guardando poi anche a tutta un'altra serie di attività che se vuole ne parliamo. Sarà venerdì ovviamente l'occasione per fare il punto anche sugli altri settori, molti dei quali hanno visto proprio gli amministratori di Forza Italia in regione, nonostante voi non avete richiesto ulteriori deleghe a Marsiglio a fronte di una crescita di consiglieri, però voglio dire sul turismo, sulle attività produttive, Forza Italia ha gestito questa delega nei cinque anni, poi vedremo anche il vostro resoconto venerdì, nell'appuntamento del Palabecci nel pomeriggio, nel quale sostanzialmente direte che le vostre liste sono praticamente pronte in tutte e quattro le circoscrizioni, siamo a questo punto? No, noi siamo a buon punto, dobbiamo ancora chiudere le liste, bisogna coprire i territori, stiamo affrontando con i nostri dirigenti, con i nostri simpatizzanti, con alcune persone del mondo, la cosiddetta società civile, un termine che a me non piace, ma si usa così dire, che ci hanno chiesto la candidatura, credo che, insomma, se non il venerdì, nel giro di 15 giorni, le liste sono pronte, ma ciò che a noi ci interessa è far capire agli elettori quello che è stato il nostro impegno, questa attività intensa che è stata fatta con risultati veramente importanti, prima ne ho citati alcuno, lei ricordava il turismo, che credo che è un'altra medaglia che ci possiamo mettere, intanto dal primo fatto che può sembrare una stupidaggine, ma avere un testo unico sul turismo, anche lì, insomma, una cosa fatta dopo 30 anni, ci siamo riusciti, ma oggi, mentre il turismo era considerato veramente un segmento minimale rispetto al Pilla Bruzzese, noi abbiamo fatto delle grandi scelte, peraltro che qualcuno ci ha anche contestato, ci ha provato a contestare, penso l'aver portato il Napoli Calcio in un territorio dell'Alto Sangro, quindi non è solo la città che le ospita ad aver avuto quel risultato, è tutto il comprensorio, perché la gente non capisce che avere il Napoli Calcio a Castelli di Sangro significa per 15-20 giorni avere tutta la stampa sportiva nazionale e internazionale, tutti i media nazionali e internazionali, fissati sul Napoli che magari vince il campionato, magari partecipa anche alla Coppa dei Campioni, la stessa cosa il Giro d'Italia, quello è successo con il Giro d'Italia, credo che lo si sta palpando quotidianamente e questo l'abbiamo fatto perché... Adesso ci sarà anche l'avrivo di quello femminile in Ambrugia. Ma non solo, ma noi abbiamo fatto, e lo abbiamo detto dall'inizio, che l'abbinamento sport e turismo è un abbinamento vincente. Noi diciamo che l'abbinamento vincente è turismo, sport e cultura e le nostre partecipazioni alle manifestazioni internazionali, alle fiere, dove non si andava più, dove non si andava più, noi ci andiamo, portiamo, facciamo conoscere l'Abruzzo, abbiamo messo, e io sto chiedendo a Marsilio di aumentare la cifra, 15 milioni sulla promozione, perché così si... Fondi europei, peraltro, quindi non sono neanche risorse dei cittadini abruzzi, perché così si fa conoscere l'Abruzzo fuori dai convini regionali. Abbiamo messo 25 milioni sulla Film Commission, un'altra cosa di cui si parlava, io sono andato a promuovere, in tempi non sospetti, la Film Commission a Londra, a Los Angeles, finalmente abbiamo il percorso burocratico, quello che ci vuole, istituzionali, i vari passaggi che bisognava fare, li abbiamo portati a Commissione, credo che prima della fine dell'anno nomineremo anche il direttore, così si fa la promozione dell'Abruzzo. Abbiamo pochi secondi, soltanto per ricordare l'appuntamento di venerdì al popolo di Forza Italia, ai vostri sostenitori, ma anche a chi volesse conoscere i risultati di questi cinque anni di lavoro. L'appuntamento è per? È per venerdì 17, al Palabeccio, al Porto Turistico di Pescara. Ci saranno? Ci saranno gli otto consiglieri, l'assessore, il coordinatore pagano e abbiamo avuto la bella notizia che sarà presente il Ministro Bernini che porterà anche prima, farà una conferenza a Stamba per portare belle notizie alle università abruzzese. Bene, con questa anticipazione noi ringraziamo e salutiamo Mauro Febbo, grazie ai nostri telespettatori, appuntamento alle prossime occasioni con la rubrica Il Fatto. Arrivederci.